Il primo dei sofisti, Protagora, sosteneva che l'uomo è misura di tutte le cose, uomo mensura, finiva per essere anche la misura stessa di Dio. In parte è quasi accettabile la definizione perché noi possiamo comprendere le cose, quindi afferrarle e dunque coglierne i confini, le misure, soltanto nei limiti di quella che è la nostra capacità recettiva. Però questo è pericolosissimo perché alla fine il mondo attorno a noi potrebbe essere tutta una nostra immaginazione. Se l'uomo fosse misura di tutte le cose sarebbe un bel problema. Ce ne accorgiamo ogni volta che noi diventiamo il criterio di giudizio, ad esempio, il criterio di scelta per tutto ciò che accade in noi e attorno a noi. La misura non sono io, altrimenti divento dittatore e nessuno vorrebbe vivere accanto a un dittatore. Il Vangelo di oggi ci presenta una prima misura che è la misericordia di Dio. Bisogna essere misericordiosi come misericordioso Lui. Ma va anche detto che per il proseguo di questo Vangelo di fatto si dimostra che la misura non è nemmeno Dio. La misura non è Dio, altrimenti divento suddito. C'è un certo fideismo, anche diffuso, che si tradurrà sempre, o meglio, tradurrà sempre una certa paura di Dio perché Lui è troppo grande e mi schiaccia con la sua grandezza. Dunque la misura non sono io, altrimenti divento dittatore. La misura non è Dio, altrimenti divento suddito. La misura sei tu, ci dice questo Vangelo. Tu che mi sei accanto, il prossimo, perché se la misura sei tu, allora io divento fratello. E questa è l'unica vera moralità richiesta a chi crede.